Il ritorno al Riviera delle Palme non porta fortuna alla Sammenettese che impatta 2 a 2 contro un Real Rimini che si è dimostrato una squadra di qualità nonostante le assenze di Pica e di Giulio. Giudici recupera invece Pazzi ma deve rinunciare al fosforo di Oresti a centrocampo. I ragazzi di Iacobelli riescono così a prendere le misure alla Samp che ha una ghiottissima occasione al diciottesimo. Pazzi lanciato da di vicino solo in area si fa però ipnotizzare da Veri. Dopo l'avvio a Sprombattuto la squadra dei giudici rifiata e il Real Rimini mette fuori la testa. Al ventisettesimo Piccolo triangola bene con Procopio ma poi conclude debolmente. Nessun problema per Lima. Al trentunesimo è ancora Procopio a girare in porta un bell'invito di Piccolo. Pallone debole e centrale che Lima blocca senza difficoltà. L'occasione migliore per gli ospiti arriva al trentaduesimo. Spunto di Casolla sulla sinistra. Tiro cross che Piccolo non riesce a deviare. Lima forse ingannato al mancato tocco e l'attaccante bianco-rosso manca la presa. Il pallone si perde sul fondo. L'ultima occasione del primo tempo arriva al quarantatreesimo. Bella iniziativa di Grieco sulla sinistra. Cross che trova Ogliari libero in area. Tiro a botta sicura su cui Berì risponde da campione e si ripete sulla conclusione successiva di Rulli respingendo ancora la sfera. Dopo il riposo i ragazzi giudici rientrano in campo distratti e già dopo due minuti rischiano grosso. Al quarantasettesimo Lima tocca corto per zero che non capisce le intenzioni del proprio portiere. Casolla si infila e crossa per Procopio. Sinistro al volo in bello stile. Sfera che termina alta. Il gol del vantaggio bianco-rosso arriva due minuti più tardi a causa di una grave incertezza dell'estremo difensore della Samba su un cross senza pretese di Lunati. Lima manca completamente la presa e Casolla deve soltanto depositare il pallone nella porta sguarnita. Fra stornata la squadra di giudici subisce il secondo gol ospite due minuti più tardi. È il cinquantunesimo quando Lunati si incunea sulla destra e mette in mezzo un la sotterra su cui arriva per primo Procopio. Piattone destro e 0 a 2. Giudici corre ai ripari inserendo Bianci e Zazzetta per di vicino e Oliari. La Samba si scuote e trova subito la rete per accorciare le distanze. Al cinquantaquattresimo Gambini stende pazzi in area di rigore. Il bomber dal dischezzo spiazza Veri. I ragazzi di giudici vanno vicini al pareggio due minuti più tardi. Rulli su punizione impegna Veri ad alzare la palla sulla traversa. Alla ricerca del pari la Samba si scopre i contropiedi biancorossi. Casolla sulla sinistra si beve zero e centra. Nessun compagno però è pronto alla deviazione. Il gol del 2 a 2 arriva al settantesimo sugli sviluppi dell'ennesimo calcio d'angolo battuto dai padroni di casa. Pazzi ben appostato in area di rigore devia di testa in fondo al sacco. La Samba ha addirittura l'occasione per rivaltare il punteggio al settantaseiesimo. Daniello sulla destra si libera in dribbling e calcio a rete. Veri è battuto ma Cenciarini salva deviando in angolo colpetto. L'assalto finale dei Biancoverdi non frutta altre limpide occasioni da golle. Nonostante i sei minuti di recupero accordati dal direttore di gare, il punteggio non cambia più.